Manejare un paese non è un luogo di monopoli. Adesso c'è una maniera turcosta, un altro anno, e lo che è rubato è paga, con il gaso che non deve, è sorpassare, magari un floreno, è completamente insostenibile. Per me ne sono presentati in matrice, c'è varie evidenze di prueba di friends and family, nel caso di Robert Maduro di DEP, una persona con una buona investigazione, con un quattro salario, e anche, dopo la suspensione del miembro di archivista del Parlamento, la signora Waver-Cruz ha visto che qualche ambito è una violazione di una ma l'investigazione, ma è un punto di rispondere in maniera madura che aveva, ovviamente, è stato per la CSA, quindi ci sono state evidenze che uno dei suoi consiglieri, il signor Francescruz, ha fatto un atto di giurgront, che il paese ha anni e centenari di dire che si sta passando qui. Ora, durante la pausa, ma hai più evidenze di dire che ora si sta tocando, l'integrità non sta contando. Quindi, realmente, mi sicura che mi paciente e mentira di integrità con il governo Waver-Cruz, che pur va a parentare, o è la che da desmascarare. E mi è curioso per attender e contestare tanto il ministro di Finanze come il ministro del Presidente, ma poi, realmente, ha chiesto di dimostrare che ci sono. Ci sono due cose che ci sono. Il ministro del Presidente ha ganato, il ministro del Presidente non sta integro, il ministro del Presidente, è pur per il tuo popolo, i Aruba-Hassi, e, realmente, il maniaggio finanziario assine qui non può seguire, e l'abuso di potere, corruzione e nepotismo non può seguire. quindi, mentre la gente non si può seguire, non si può seguire, non si può seguire, e non si può seguire il nostro paese, è un cambiamento di sicurezza necessario. Quale è una differenza di monti, non ti ho entregato più monti di aria, comparare con l'altro giorno? No, aria non ti ho entregato di monti, abbiamo un'amienda, un'amienda per riduzire il gaso, specialmente in quanto telefono, auto e gasolino. Ovviamente, l'amienda arriva, per noi votare il budget, mi mette di due o altri miembri del Parlamento per firmare l'amienda a CUMI, quindi, mi passi per diversi altri partiti che non si può seguire l'amienda, e mi spero, mi lo hagi a sostegno per noi per presentare l'amienda e per noi per votare il budget. E qui non ti ho fatto, per corte, di un telefono, auto, potremmo essere ancora con l'auto nel ultimo modello? Absolutamente, e ho fatto che non è necessario, casi tu persona ti ha un cellulare a través di chiamare a Whatsapp, non è necessario per che la gente ti ha un telefono, se vuoi prendere il gasolino, potremmo essere promuovere anche quando la gente usa auto nel l'elettrico, ma questa è una maniera di fax arribe per giurta, io non ti usa fax ma sia un giorno per costa digitale, per sicurare che in un momento non è che ti ho più piccolo per corte e il gaso non può ridurre, ho felice, no.